Apprezzato tanto è vero che stasera riceverai il premio Pimi con Federico Guglielmi Mi verrà lanciato come Pinias Gage dall'occhio, capito? Ecco il giornalista Federico Guglielmi che premia Roberto Angelini con la targa Pimi 2013 Ciao Federico, benvenuto Grazie, ciao a tutti Qui la situazione è che lui in realtà sarebbe dovuto venire a Pistoia quando abbiamo fatto tutta la serata con la premiazione e con gli altri perché il Pimi ogni anno assegna vari premi, soltanto lui era impegnato con un concerto a Napoli Devo dire che ha cercato di fare di tutto per rinviarlo e venire a Pistoia anche se a Napoli suppongo lo pagassero mentre a Pistoia invece non avrebbe preso una lira e avrebbe preso solo il premio però a tale proposito, questo per dire l'autolesionismo, il musicista che crede in quello che fa soprattutto perché per lui probabilmente avere un premio per un disco che ha fatto interamente da solo un disco poi così particolare è sicuramente una soddisfazione non da poco ricordo appunto il Pimi sono i premi ufficiali della musica indipendente in Italia sono moltissimi anni che li facciamo in pratica partecipano tutte le uscite dell'area indipendente quindi di area non major e che dire insomma non è venuto su allora piuttosto che mandarglielo a casa per posta come talvolta si fa oppure passare in studio che abitiamo pure vicini e dirgli tieni ecco il tuo premio gli ho detto vabbè dai facciamo che alla prima occasione carina a Roma passo un attimo, saluto, consegno il premio e me ne vado e me ne vado, noi siamo molto felici una situazione più ufficiale poi credo che comunque ti faccia piacere condividere con il tuo pubblico poi in particolare il premio per cui un attimo grazie com'è? hai fatto bene? mi sembra molto molto bella il premio ovviamente simbolico che raffigura un cd ecco tienilo che cos'è? fallo vedere rame? argento? rame ecco l'acqua ecco l'acqua ecco si è anche schiacciato il dito mi sei chiuso su un dito e quindi ecco la piazzi lì facciamo quelle cose esatto la mostra poi ti do la mano ovviamente ecco vieni qui sono momenti congratulazioni un applauso a Roberto Angelini Roberto è un è un amico un giornalista non dovrebbe mai diventare troppo amico dei musicisti però con Roberto veramente ci siamo presi subito in occasione della promozione del suo primo disco io andai a intervistarlo e una delle cose che gli chiesi dico ma Ruben ma questo servizio fotografico così così pomposo così esagerato così e lui così glissava un po' faceva il vago poi io come dire ho subito il il gatto matto ma già gli volevo troppo bene in quel caso mi sono astenuto cioè chiunque mi diceva ma come Angelini del quale parlavi tanto bene ha fatto sta cosa qui dico ragazzi sapete come funziona con le case discografiche un problema eccetera eccetera dopodiché per fortuna il rapporto si è ricostituito alla grande con Pong Moon veniste a presentarlo in Rai dove allora trasmettevo Stereo Notte insomma abbiamo avuto tutto un un percorso finora è andata benissimo gli ho fatto una copertina del mucchio selvaggio per la vista su una concessa adesso il premio dai insomma e dai insomma voglio dire e alla fine è andata adesso fammi un altro gatto matto così proprio che ti piace mangiare ormai è sulla strada sulla buona strada ti piace il sushi andiamo a mangiare andiamo a mangiare sì esatto sì oleo alla grande Roberto che dire grazie è stato un piacere grazie grazie a Federico Guglielmi mi è fatto piacere anche darlo qui perché anche questo ragazzo è un è un vecchio amico grazie grazie a tutti grazie a tutti